Il tunnel della droga Sono riuscito ad entrare nel tunnel ma è difficile uscire questo non è un tunnel normale è il tunnel della droga guarda di dietro sono appena appoggiato gli altri stavano dentro fino al collo ma di voi diceva a me che io un giorno facevo un calendario i calendari fanno sempre chi la figaccioni invece nell'oggiore che fa calendario accontentiamo il pubblico femminile non esagerate però so lo spettiamo la macchia siamo fermi dite Sì, adesso c'è l'edrogata.